Buon pomeriggio amici lontani e vicini, il nostro ospite di oggi è il dottor Edoardo Buongiorno, patron dell'hotel Oriente Reduce perché anche lui è stato sicuramente tra i protagonisti della pubblicazione del libro di Marcello Sorgi su Edda Sciano e il professore Leonita, buongiorno. Questa sera però ci soffermeremo sulla inaugurazione che tra poco ci sarà della collezione etno-antropologico. Allora, dottore Buongiorno, come nasce questa collezione? Cominciai la collezione circa 45 anni fa quando ancora avevo 13 anni, dopo anno dopo anno cominciai a raccogliere reperti sempre più interessanti e adesso dopo 40 anni mi ritrovo con circa 3.500 oggetti di varia estrazione, di varia provenienza ma che riguardano soprattutto la nostra cultura contadina. Grazie alla iniziativa e all'intervento del professore Giusto Lisi che ha ritenuto opportuno dare, iniziare o comunque dare una forma di inaugurazione a questa mia collezione che in effetti già è in mostra all'Oriente dall'82 ma adesso ha una sua ufficialità grazie alla presenza del professor Rigoli che in Sicilia è sicuramente la massima autorità nel settore dei beni etno-antropologici. Ma questa passione com'è nata? La passione non lo so, forse è stata una reazione all'atteggiamento, al comportamento di mio padre quando morì mio nonno, cioè Don Edoardo suo padre e quando lui decise con la morte del suo genitore di dare tutti gli oggetti che erano appartenuti a Don Edoardo e a lui anche da bambino decise di darli all'infinità del mare a Tremiglia fuori Monterosa, io ero presente a quell'insano gesto e forse in me scattò una molla, allora io avevo 10 anni quindi non avevo nessuna voce in capitolo e nacque in me proprio il desiderio di ricominciare da capo a cercare di reperire quei vecchi oggetti che rappresentavano un po' il nostro mondo di ieri. I beni più preziosi? No, non si tratta di beni più preziosi, ci sono alcuni quadri, una via Crucis e un Pulcinella del 700 napoletano, ci sono delle piastrelle del 700 e vorrei dire che il valore, se di valore si può schiamare, è nella totalità, nella globalità di tutti gli oggetti. Vorrei dire parafrasando un po' il P3 che questi oggetti rappresentano la memoria storica, rappresentano l'ingegno dell'uomo per l'uomo da dare, da cercare di tramandare ai posteri in maniera tale che non si dimentichi la propria origine. Oggi è una collezione, ma potrebbe diventare anche un museo a questo punto? No, non potrà mai diventare un museo, sia il professor Rigoli è stato molto chiaro in materia, perché per quanto riguarda il museo ci vuole un certo tipo di esposizione e questa rimane una raccolta tecnico-storica, antropologica, perché non c'è una sistematicità di esposizione, ma bensì gli oggetti sono esposti in una maniera molto variegata, dando soprattutto un senso alla scenografia della disposizione degli oggetti, quindi niente di museale, ma penso che nulla tolga alla importanza dei reperti stessi. Bene, abbiamo completato, ringraziamo il dottor Edoardo Buongiorno, che praticamente è il protagonista di questa collezione, correggiamo, etnografica. Bene, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci. Buon pomeriggio, amici vicini e lontani, i nostri ospiti di oggi sono il professore Aurelio Rigoli, presidente del Consiglio regionale dei beni storico-artistici etno-antropologici e il professore Vittorio Giustolisi, presidente del Centro di Documentazione e Ricerca per la Sicilia Antica Palorsi di Palermo. Professore Rigoli, due importanti eventi quest'oggi a Lipari, la collezione del dottor Edoardo Buongiorno e poi la pubblicazione del libro del professore Giustolisi. Due importanti eventi, come lei sottolinea, la collezione Buongiorno, che è stata di recente scoperta, fra virgolette, dall'amico Giustolisi e che è stata ieri e oggi scoperta da me. Certo, io credo che sotto il rispetto della qualità sia la più importante collezione del mondo etno-antropologico che noi abbiamo in Sicilia, peraltro con un aspetto innovativo, importante anch'esso, che è sistemata con un gusto artistico, sicché costituita da manufatti, i manufatti diventano tutti artefatti, sia perché lo sono, sia perché ritrovano un posto assolutamente adeguato. Sono Ben, ci diceva poco fa Edoardo Buongiorno, 3.300 pezzi. Parlavamo di una possibilità di far diventare questa collezione un museo. Diceva che non era possibile e fra l'altro in questo senso si era pronunciato anche lei. No, 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 non vorrei che si interpretasse l'opinione di altri per mia. La possibilità che una collezione diventi museo è legata alla volontà del proprietario. Io mi sono occupato fra le altre strutture del museo Achille Bertarelli di Milano, ma Achille Bertarelli quando io me ne sono occupato aveva già concesso al comune di realizzare un museo. Quindi qui la parola va veramente all'amico Edoardo Buongiorno che io sono lieto di aver conosciuto. Adesso non possiamo non soffermarci sul libro del professore Giustalissi che fra l'altro presenterà lei. Ma Giustalissi è una mia vecchia conoscenza come studioso. È uno studioso assolutamente moderno, è uno studioso che usa la pluralità delle fonti, delle fonti scritte alle iconografiche e uno studioso poliedrico. Io quando presento un libro di Giustalissi non so mai quale aspetto scegliere perché Giustalissi è archeologo, ma Giustalissi è storico, Giustalissi è antropologo. Qual è l'importanza di questo libro? L'importanza di questo libro è l'avere ripercorso la grande trama della pirateria che ha interessato non soltanto l'Ipare ma l'intero Mediterraneo e avere ripercorso queste piraterie non per cercare la storia scienziale dei dotti come è stato detto non l'Ottocento. Ma averla ripercorso è per ricercare l'umano e quindi il riflesso come dice benissimo in questo libro che le vicende della pirateria hanno avuto nell'ambito della popolazione e la memoria che di questi riflessi ancora oggi si mantiene. Professore, quindi un'ulteriore fatica a livello di pubblicazione di volumi? No, questa è nata originariamente dalla traduzione dal francese dell'opera di Jean de Borges e voleva essere un libretto così. Poi, attendendo le riproduzioni che la pittrice italiana ha fatto di queste cose, ho pensato di arricchirlo ad un'introduzione critica e quindi ho ripercorso visto che è una nutrita biblioteca a disposizione, insomma un po' le tappe della pirateria oliana sintetizzandole, diciamo, nulla di particolarmente innovativo. Come ha detto il professore Enrico io ho voluto fare vedere qual era la ricaduta appunto nell'animo del popolo attraverso naturalmente il racconto di eruditi, per me di questi fatti drammatici e terribili che ancora oggi affliggono l'intero pianeta. C'è questo contrasto tra mondo islamico e mondo cristiano che non si riesce a sanare. Bene, abbiamo completato, ringraziamo il professore Aurelio Rigoli, il professore Vittorio Giustolisi, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.